Giorgia Meloni, buonasera, bentornata stasera Italia. Salve, buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, abbiamo visto uno scatenamento, un'asta addirittura oggi davanti al Parlamento. Che cosa succede? Voi dite che in questo momento, mentre stanno votando i senatori di maggioranza, si sta svendendo il Paese. Ce lo spiega che vuol dire? Ma guardi, glielo spiego volentieri. Noi di fatto oggi votiamo una riforma del Fondo Salva Stati che prevede sostanzialmente due questioni centrali. La prima è che il Fondo Salva Stati diventa sempre più un fondo salvabanche. Cioè i cittadini d'Europa, italiani compresi, mettono miliardi di euro in un fondo che servirà fondamentalmente a salvare le banche tedesche. Le banche tedesche hanno un problema, sono piene zeppe di derivati e quindi la Germania, dopo che gli italiani hanno salvato le banche italiane con i soldi degli italiani, pretende che noi oggi salviamo le banche tedesche sempre con i soldi degli italiani. E già lei capisce che c'è qualcosa che non funziona. Ma la seconda questione ancora peggiore è che questa riforma del Fondo Salva Stati prevede il principio per il quale uno Stato che dovesse accedere al MES potrebbe essere costretto alla ristrutturazione del suo debito pubblico. Ora lei sa benissimo che l'Italia ha un debito pubblico significativo. Il principio della ristrutturazione del debito pubblico in caso di accesso dell'Italia al MES significa in buona sostanza rischiare il collasso delle banche italiane che detengono titoli di Stato italiani e questo comporta il rischio di volatilizzare i nostri risparmi. Perché voi sapete bene che le regole europee sul crollo delle banche prevedono che in caso di collasso di una banca siano sostanzialmente i correntisti che pagano. Allora io vedo abbastanza chiaro il disegno che nessuno vuole raccontare ma siccome sono una patriota e mettiamola così rimanga agli atti che avevo avvertito gli italiani e la sua classe politica di quello che stava anche per accadere a me pare che si stia materializzando un antico sogno tedesco. I tedeschi dicono da sempre italiani avete un alto debito pubblico ma anche un alto risparmio privato pagatevi il vostro debito pubblico con il vostro alto risparmio privato. Fanno la riforma del MES poi ci fanno accedere al MES sanitario curioso anche qui perché questo MES dicono che è tanto vantaggioso per noi ma dicono anche che l'Europa ci chiede che noi accediamo altrimenti non ci dà i soldi del recovery fund. Di solito le cose se sono un obbligo non sono anche vantaggiose e questo comporta che siccome anche il MES sanitario alla fine ha le condizionalità perché non è vero che sono state tolte già che il trattato su questo non è stato modificato sa che cosa accade? Che noi oggi accediamo al MES sanitario fra due anni quando è finita la pandemia un anno, due anni scattano le condizionalità è stato introdotto il principio della ristrutturazione del debito noi veniamo costretti a ristrutturare il nostro debito le nostre banche collassano i risparmiatori pagano i tedeschi sono contenti mi dica lei se è una cosa vantaggiosa per noi ho torto? Qualcuno mi spieghi perché l'Europa ci impone di accedere al MES visto che sarebbe vantaggioso per noi e non per loro. questa riforma sarebbe l'anticamera di una richiesta al nostro paese di rientrare del debito pubblico però di rientrare con i sistemi europei non come vogliamo noi questa riforma sarebbe un'anticamera di una cura greca cioè questa riforma è l'anticamera di un commissariamento della politica italiana in Europa pensano che noi diciamo così che l'Italia non possa essere governata da italiani perché gli italiani hanno questo vizio secondo loro di spendere e espandere ora c'è anche da dire che diciamo le iniziative modello bonus monopattino non hanno aiutato a smontare questo pregiudizio però di fatto loro in buona sostanza dicono gli italiani spendono e spandono non sono in grado di governarsi serve gente un po' più serie tipo ai francesi e ai tedeschi che mentre poi ci curano dai nostri vizi però si fregano anche la nostra argentina e quindi facciamo un bel commissariamento della politica italiana una bella cura Meloni lei sta raccontando che significa taglio dei servizi lei sta raccontando un complotto internazionale in cui sarebbero coinvolti anche gli altri paesi questa sera la notizia è che Polonia e Ungheria stanno andando verso l'approvazione di questa riforma del MES ma forse loro non hanno paura perché non hanno un debito pubblico così alto? esattamente guardi io non sto raccontando un complotto io sto diciamo mettendo in guardia gli italiani perché le cose vanno raccontate per come sono sui rischi continuo a fare una domanda alla quale nessuno risponde semplice se il MES è vantaggioso perché nessuno in Europa accede al MES? perché guardi non è che bisogna studiare i trattati questo è proprio un fatto di intelligenza chiunque abbia avuto a che fare nella sua vita diciamo con un fatto di affare si fa questa domanda mi conviene o non mi conviene se venissero da lei e le dicessero guarda ho questo affare vantaggiosissimo non lo vuole nessun altro ma ti garantisco che è vantaggioso il dubbio che c'è una fregatura le verrebbe o no? assolutamente sì voglio sentire il parere di Cesara Bonamici che ha condotto il TG5 il vice direttore e non ha bisogno di presentazioni c'è anche collegato Alessandro Giuli allora Cesara esiste insomma c'è questo disegno adesso lei lo spiega così naturalmente bisogna capire un po' tutte le campane è un discorso molto complicato perché non prendere il MES quello sanitario se ne è parlato tante volte anche qui da te in tutti i telegiornali ma secondo la Meloni è un'esca è come il topolino che mangia il MES sanitario e poi beh beh allora io dico anche che così come chiunque fa un debito che sia per comprare una macchina o qualcosa di più significativo sottoscrive un contratto quindi io non posso credere che un governo che arriva a nel caso a ricorrere a questi fondi non ha prima un controllo preciso di quelle che sono le condizioni cioè una cosa sono i timori una cosa è poi quello che veramente si va a scrivere in un contratto di questa importanza comunque al momento con tutti i dubbi che solleva Meloni il fatto è che qui si parla di una riforma non è che si parla di un accesso non è che si sta andando a prendere questi denari si parla di una riforma di carattere generale nel caso si dovesse arrivare ad una cosa concreta ci vorrebbe il voto parlamentare ci vuole il voto del Parlamento e ci vogliono degli accordi che sono scritti, ratificati cioè nessuno si fida di nessuno loro non si fideranno di noi ma neanche noi ci fidiamo cioè si scrive e questa è una valutazione che supera tutte le altre cose comunque oggi a parte questo c'è parecchio d'altro Barbara qui sul piatto sul piatto del futuro del governo ecco Meloni Salvini ha detto ma noi siamo pronti a collaborare ci sono posizioni diverse nel centrodestra? Allora intanto faccio mezzo passo indietro su quello che diceva Cesara Bonamici perché per carità giusto dire sentiamo tutte le campane però io non ho raccontato un punto di vista sono in grado di argomentare tutto quello che ho detto con norme dell'Unione Europea perché queste questioni non sono un punto di vista su questo vorrei che fossimo abbastanza tutti quanti abbastanza diciamo chiari ok? Allora il mess a noi non conviene spiego perché in tre secondi perché noi abbiamo oggi una Banca Centrale Europea che finalmente si è messa a fare la Banca Centrale quindi compra titoli di Stato di grazia esatto stampa e compra titoli di Stato di grazia perché noi quei 36 miliardi di euro che possiamo prendere sul mercato grazie alla Banca Centrale Europea senza alcuna condizionalità dovremmo andarli a prendere dal mess che invece prevede delle condizionalità perché secondo me non conviene banalmente un fatto economico non è un fatto ideologico allora vediamo ecco a proposito di quello che è successo scusi dico solo questa velocemente dico solo questo velocemente il capo politico dei 5 stelle Crimi ha dichiarato candidamente la riforma del mess è pessima ma noi dobbiamo accedere altrimenti l'Europa non ci dà i soldi dei recovery fund qualcuno mi spiega che significa ve lo dico io che l'Europa ci dà i soldi dei recovery fund se può controllare la nostra economia perché questo dice la logica non l'ideologia ecco questa è la risposta di Giorgia Meloni poi sentiremo anche Alessandro Giuli intanto vediamo il duello come in un western di Renzi contro Conte non sa che siamo galantuomini va bene garantisco io per Ronni noi non stiamo minimamente chiedendo che nella cabina di regia ci sia anche un ministro di un colore politico più vicino al nostro Costicino tranquillo questo è importante parlarsi è importante il confronto dialettico è importante la varietà di posizioni ma è anche importante poi superare in una sintesi dirsi le cose in faccia perché servono ora o mai più quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile quello con la pistola è un uomo morto ma è importante anche che ci sia la massima coesione delle forze di maggioranza questo è un momento politico lo ha ricordato il presidente del consiglio in cui l'Italia ha delle occasioni che non ha mai avuto in passato la nostra società un'altra volta Alessandro Giuli Renzi è come se fosse un po' il burattinaio dice ho fatto nascere questo governo quando voglio lo faccio cadere questo è un po' il messaggio tutti gli interventi di Renzi in Parlamento hanno questo sottotitolo o no? è un po' così nel senso che come un leader politico di governo chiede o cerca di esercitare i pieni poteri arriva Renzi e ti ricorda che non è possibile perché siamo in una democrazia parlamentare però è anche vero che Renzi è non molto più forte di Giuseppe Conte perché si rischia di andare a votare se cade il governo cioè l'unico uomo col fucile qui è Sergio Mattarella presidente della Repubblica i due pistoleri hanno delle pistole scariche Conte è un leader politico logorato che cerca di superare i condizionamenti della normale ordinaria democrazia parlamentare attraverso delle improbabili task force Renzi cerca di ritagliarsi uno spazio politico perché i suoi numeri sono decisivi in Parlamento ma se si va a votare viene stando ai sondaggi polperizzato quindi è un equilibrio che si fonda su delle debolezze speculari e incrociate e che crea una situazione di stallo di fronte alla quale chi poi effettivamente ci perde sono probabilmente cittadini aggiungo in coda rapidamente che trovo stupefacente che in questo momento in Europa laddove ancora in piena pandemia ci si preoccupa giustamente di autorizzare spostamenti di bilancio e politiche espansive per far fronte a un problema grosso come le ricadute economiche della pandemia oltre che quelle sanitarie tutti i giorni ti parli di messe laddove il messe è ancora ancorato a una logica del rapporto deficit pil al 3% debito pil al 60% cioè numeri che sono stati ampiamente superati dalla realtà è questo che non torna oggi bisogna riscrivere il contratto sociale europeo non preoccuparsi di far valere un vecchio mal rinnovato e rabberciato accordo intergovernativo che non è neanche parte dell'anima dell'Europa ecco Meloni però essere così contro l'Europa non vi fa rischiare l'isolamento? Guardi intanto le segnalo che io sono presidente del partito dei conservatori europei che non mi pare esattamente una realtà isolata cioè questa idea per cui o si dice sì in modo acritico a tutto quello che decidono la Germania e la Francia o si è fuori dall'Europa è un racconto sballato mi perdoni l'Italia è fondatore d'Europa tanto quanto la Germania tanto quanto la Francia l'unico problema che abbiamo noi è che non abbiamo lo stesso orgoglio dei tedeschi e dei francesi perché altrimenti sapremmo quanto pesiamo nel scenario europeo e saremmo in grado di difendere i nostri interessi esattamente come fanno i francesi i tedeschi mi fa dire una cosa sulla Francia allora la Francia ha un commissario per il recovery fund si chiama François Bayrou è un centrista però evidentemente andava bene a tutti ha già presentato a ottobre il suo programma e va dritta come una spada perché noi siamo da due mesi a parlare di commissari di cabina di regia di task force Meloni guardi perché la differenza fondamentale tra noi e loro è che loro hanno un governo che comunque è scelto dai cittadini che ha un mandato forte hanno un semipresidenzialismo hanno un presidente eletto direttamente dai cittadini e invece noi abbiamo governi che continuano a essere fatti con inciuci di palazzo che non hanno una visione comune che non sanno cosa fare che devono banalmente tenere insieme tutti i micropartiti che ne fanno parte il dibattito di questi giorni lo dimostra Renzi Micarenzi stanno lì dalla mattina alla sera a discutere di poltrone mentre la gente muore o di covid o di povertà e a loro non interessa loro continuano a moltiplicare le poltrone continuano a fare dibattiti su loro stessi in un modo assolutamente lunare e continuano a moltiplicare queste task force avevamo 450 persone di task force per il covid adesso Conte vuole altre 300 persone di task force per il recovery fund ma tutti questi politici che li paghiamo a fare mi perdoni perché noi abbiamo quasi mille parlamentari abbiamo quasi 100 esponenti del governo se dobbiamo pagare pure quelli delle task force almeno non paghiamo gli stipendi a questi del governo Cella immagino una persona normale faccia questo ragionamento Cella voleva intervenire Meloni ho due domande per lei la prima rapida è secondo lei Renzi che un po' in questi tempi ci ha abituato ai penultimatum ma questa volta fa sul serio e faccio subito anche la seconda domanda se fa sul serio fino al punto di far cadere il governo io la domanda che le faccio che le vorrei fare è questa cioè qual è la vostra posizione cioè la vostra scelta resta sempre quella che lei tante volte ha ricordato la strada maestra del voto oppure data l'eccezionalità della situazione italiana la pandemia la crisi economica il nostro debito che c'è poco da fare è spaventoso e quello che comporterebbe il voto anticipato quindi al minimo minimo due mesi di blocco allora la situazione renderebbe possibile una strada intermedia questa è proprio la seconda domanda una strada intermedia per andare avanti con un governo e magari anche il punto per arrivare poi all'elezione del Presidente della Repubblica c'è questa ipotesi? allora sul tema di Renzi io non sono ottimista francamente Renzi alza la voce per alzare la posta ma lo fa sempre ed esclusivamente per le poltrone per il resto non gli frega niente per carità può smentirmi spero che lo faccia ne ha messo a disposizione tre stasera però è un uomo sì sì ma guardi le può mettere a disposizione anche tutte ma deve arrivare fino in fondo altrimenti non sta mettendo a disposizione le sue poltrone sta mettendo semplicemente arrepentaglio la stabilità italiana che è una cosa diversa poi lo puoi fare sulle grandi questioni io sono abituato a farlo ma non lo puoi fare per gli affari tuoi altrimenti purtroppo non sei un rappresentante degli italiani sei al massimo rappresentante di te stesso ripeto io non credo che Renzi manderà mai a casa al governo arrivo 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 arriva la seconda domanda arriva la seconda domanda io non credo che Renzi faccia sul serio anche perché ragionevolmente se si andasse a votare diciamo le percentuali di Renzi oscillerebbero intorno se va bene al 3% e diciamo l'uomo non mi pare così legato ai valori spirituali se questo accadesse io francamente non sono d'accordo con la lettura di Cesare a buon amici nel senso io credo che sia preferibile diciamo una campagna elettorale di due mesi che tenga ferma l'Italia due mesi piuttosto che avere un Parlamento che non è in grado di mettersi d'accordo su niente che vuol dire bloccare l'Italia per i prossimi tre anni il problema dell'Italia è esattamente questo che non ha un governo con un mandato forte che non ha un governo con una visione chiara che non ha un governo che si assuma la responsabilità di dire agli italiani che cosa vuole fare quali sono le sue ricette di politica economica di politica industriale quali sono le sue priorità metterci la faccia e realizzarle senza dover stare lì a spendere un soldino di qui e un soldino di lì per mettere d'accordo e per accontentare le troppe anime fameliche della sua maggioranza come accade oggi per Giuseppe Conte le garantisco che l'Italia sarebbe più bloccata se questa legislatura arrivasse alla fine piuttosto che se si tornasse a votare ecco allora Giulio abbiamo proprio un minuto secondo te questo governo arriverà al 2000 a scadenza naturale o perlomeno all'elezione del Presidente della Repubblica sì credo proprio di sì io non so se questo governo la legislatura mi sembra che sia destinata ad arrivare a cumplimento per tutta una serie di logiche politiche e di sistema e credo che Giuseppe Conte sia realmente a rischio ma a rischio di un rimpasto che nei limiti fino a consumare definitivamente le capacità operative ma questa è una domanda che dovremmo rivolgere al maggior azionista di maggioranza a questo punto cioè il Partito Democratico che dopo il voto di oggi vuoi o non vuoi esce rapportato perché i 5 Stelle hanno preferito perdersi piuttosto che accettare una logica di coerenza rispetto alle premesse al loro programma elettorale alla loro presunta ormai vocazione contraria al meccanismo europeo di stabilità Allora torniamo fra pochissimo con Giorgia Meloni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti